Giulio Nucciari oggi riceverà dall'amministrazione comunale di Terni un ringraziamento, un riconoscimento per questa impresa del calcio italiano che è storica a suo modo. Ci racconti un po' le sue emozioni Giulio? Innanzitutto è stato un traguardo raggiunto tutti insieme, dal primo all'ultimo della spedizione. È andato tutto bene, è andato tutto per il verso giusto e siamo contenti. L'emozione è tanta perché diciamo che è un traguardo che quando cominci a giocare, cominci nella tua carriera così, non pensi di poterlo raggiungere. Anche se ci pensi, però non credi di poterlo raggiungere, quindi è stato bello. Si è molto parlato. Non c'è un riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale? No, è venuta una cosa, quando mi hanno chiamato sono stato molto contento, però sinceramente non aspettavo una cosa del genere. È più grande di me questa cosa, quindi io non sono abituato a queste cose. Si è molto parlato dell'abbraccio tra Viaglia e Mancini, ha fatto il giro del mondo e si è molto parlato anche dell'unità proprio dello staff, di questo gruppo nato anche all'interno della Sampdoria, lei, Evani, Lombardo, Salsano, Viaglia e Mancini naturalmente. È stata proprio questa l'unità, la fratellanza, l'arma in più dell'Italia? Anche questa, però ripeto, sono state una serie di circostanze che ha unito tutti, ha unito tutti, man mano che le cose andavamo avanti le cose andavano bene, abbiamo sempre creduto in noi stessi e nel risultato, ci siamo aiutati uno con l'altro e alla fine è venuto fuori questo risultato. Lei è un uomo stimato e apprezzato da sempre in città, al netto della sua esperienza da calciatore e da preparatore negli anni passati. Quanto ha sentito la vicinanza, il tifo di Terni della sua città d'adozione in questo percorso? Allora, quando noi siamo andati a giocare la prima volta a Wembley, che ho letto poi il giorno dopo che c'erano dei tifosi con degli striscioni della Ternana, quasi quasi mi è dispiaciuto di non averli visti, l'ho visti sul giornale il giorno dopo, su internet il giorno dopo, anche se con tutte le restrizioni che c'erano del caso. Però sinceramente, come in tutte le altre città d'Italia, è stato un evento che si è sentito ancora di più per tutto quello che c'era stato fra pandemia e cose del genere, è stato come uno sfogo, una liberazione.